Come sai come quei youtuber di tempo fa Però direi che non è che comincia così C'è la roba ma naturalmente Comunque siamo in un altro video Come sempre E ben arrivati Comunque volevo dire E che dovrei cambiare il mio stile di cominciare il video Però due ragazze da un po' da youtuber Da gamer Però a tutti i negri Ben arrivati con questo nuovissimo video C'è perché Non offenda qualche bianco Comunque volevo dire ringrazio a tutti Perché il mio canale fa ogni giorno Meglio Quindi Oggi ho scelto questo look Perché non trovo il mio cappello solito Però Questo look del 4 maggio Dove in pratica potremo uscire Ma Visto la situazione ancora Secondo me unice uscire Ci saranno i bianchi Non c'è nessun genitore nero Che sarebbe uscito il suo figlio Dice che Noi siamo ospiti Quindi Aspettiamo Fino alla fine E' vero Oggi escono solo gli italiani Nessuno nero uscirà oggi Ancora paura I neri sono quelli che hanno più paura di ogni cosa Comunque cominciamo subito Dax TV Greg William In pratica da Fsk E Il video si chiama 10 Spritz Sono curioso di sapere Perché questa è la decima volta che registro Ogni volta che cambio parole Quindi Spero che si senta l'audio Spero che si senta Comuncia bene bro A me la testa capa non piace Però ogni loro canzone c'è da scaldarsi Quindi Questo spero di scaldarmi più di ogni cosa Vorrei togliermi la maglietta Ma non vorrei rubare La tua ragazza Se l'hai Comunque trovate questo look Su www.noncieredinegricomeme.it Se non avete capito la battuta Non so cosa dirvi Se per dire Qualcuno nei commenti mi ha scritto Perché non fai Tutte le canzoni E mandi avanti Perché alcune canzoni Sono da copyright E se ne hai 3 copyright Vuol dire che il tuo canale Va in culonia A me non va di che è un nuovo canale Io questo canale l'ho creata Sul base di passare a quarantena Cioè poi Piano piano Facendo facendo E' diventata una cosa seria Quindi Ce la voglio tenere Ce la voglio tenere Quanti volte ho provato Mai arrivato notare Stavolta ci stiamo crescendo Quindi per questo Ma Dai Ci rischiamo questa Ma Prendo più mac Da plug 10 sprite Da vanga Fotto farma Certo piano Ora qui Talo Qua la merda Faccio A Eh Ah Ah Eh Prendo più mac Da plug 10 sprite Da vanga Fotto farma Certo impiara Ora qui Talo Qua la merda Faccio come ve l'ho detto c'è sempre da scaldarsi cazzo minca cazzo no cazzo minca cazzo dire cazzo minca non ha senso comunque ci sta i beat di fsk è da discoteca ti scaldi subito è come fare un allenamento io devo dire che non capisco un cazzo di quello che sta dicendo però il beat il flow tutto tutto si accorcia minca la prima volta in una casa a milano non ricordo manco come cazzo mi chiamavo forse roberto la prima casa a milano forse non mi ricordo come cazzo mi chiamavo forse roberto damn negri ah si per ricordare ai ai tipo che commenterà stato perchè prima nel video scorso hai detto che hai commentato se mi ha fatto un video forse di sake pool no non so come cazzo si chiamava però ho detto che se parliamo di droghe altre cose però questa non penso io ho detto mia opinione però io non ho detto che la canzone fa schifo in fsk a me piaccio non piaccio non l'ascolto però a me ho dovuto dire mi piacciono però mi piacciono per il loro tipo di canzone loro sono bravi però non è il mio stile però ogni volta che l'ascolto mi scaldo vuol dire che mi sta piacendo ragazzi ti giuro il pezzo il parola che sta dicendo non ho capito no ho capito solo un culalà che non ricordo come cazzo mi chiamavo da lì poi ho capito non ho più capito niente però tutto tutto si accorsa tutto 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 quindi è bellissimo entrerà la mia playlist che oggi stesso credo quando finisco di fare i compiti gli amanti sopra i denti se che tax facevo movimenti ora più contanti dentro il conto corrente mi piace mi piace questo questo studio di cambiamento mi piace il pezzo dal disco questo lo riasco l'ascolterai mille volte sta canzone ma mille volte prendiamo sta cosa qua mettiamo un attimo che prendo una cosa perché sta canzone mi ha fatto scaldare per tutti coloro che non lo sanno l'estate sta cominciando la gente cazzo oggi non si vede proprio niente oggi proprio si vede tutto non c'è neanche un po' di luce e dopo questa canzone c'è da usare si chiama dodorante si chiama protect and care ne va bene compratelo dopo che ho scaldato il pezzo di fsk nessuno è come dei porchi è da usare sempre bro soprattutto con una caccelestate comunque ragazzi poco da dire è tanto da ascoltare è tanto da ascoltare non so non ha saputo quello che hai detto comunque dai comunque il pezzo spaccava per davvero io stesso mi sono gazzato infatti ho usato questo non so se facciamo pubblicità a nessuno magari se questo qua mi pagasse pagasse un milione per fare pubblicità comunque il pezzo è meraviglioso perchè sto parlando da negro? perchè lo sono dai comunque dai torniamo serio torniamo torniamo un youtuber bianco comunque ragazzi il pezzo è bello il pezzo è bello e ce l'ha tanto da ascoltare e iscrivete al nostro canale pezzo di merda questo è lo stile fsk comunque vi ringrazio il pezzo è favoloso entro nella mia playlist che forse creerò dopo aver pubblicato il video ma prima devo finire i compiti vi ringrazio visto questo video non si vedeva niente perchè luce c'è tanto luce fuori poco poco de